Con 19 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio Comunale ha approvato la realizzazione del Bosco dello Sport in variante agli strumenti urbanistici comunali. Presentata circa un anno fa e discussa nel corso delle commissioni consigliari mano a mano che il progetto avanzava nel percorso di approvazione. Un passaggio importante oggi in Consiglio Comunale è l'approvazione definitiva del Bosco dello Sport, una struttura delle strutture che daranno un futuro allo sport veneziano, allo sport metropolitano, ma soprattutto tanti ragazzi e tante famiglie che vorranno passare del tempo libero e vorranno anche partecipare a eventi sportivi, eventi culturali e eventi sociali. Un ringraziamento a tutti i consiglieri che hanno appoggiato questo importante progetto. Adesso è ora di metterci all'opera per fare i lavori e poi entro il 2026 andare finalmente allo stadio nuovo, al palazzetto nuovo e anche godere di tutto il bosco. Il complesso è dedicato alle discipline sportive a livello professionistico ma anche amatoriale. Nel progetto che sarà realizzato a Tessera sono previsti la nuova viabilità Tessera Aeroporto, aree a bosco, opere di urbanizzazione, un'arena per gli spettacoli, lo stadio e un'area educational. Un progetto che è trainante su un piano integrato che invece è più grande e coinvolge 28 comuni della città metropolitana per 34 interventi diffusi su tutto il territorio metropolitano. La variante urbanistica è stata soggettata a procedura di valutazione ambientale strategica, VAS, conclusa si è con parere favorevole della Commissione VAS regionale. In relazione alla parte non finanziata, l'intervento bypass di Tessera, l'ente attuatore dovrà verificare le possibili alternative al fine di mitigare gli impianti sul patrimonio culturale dell'ambito, ovvero sul Forte Rossarol. Un progetto da 308 milioni che è stato completamente approvato anche dal Governo per poter dare garanzia all'Europa grazie ai fondi del PNRR. Un modo per rilanciare il nostro territorio, un modo anche per dire sì allo sport in città.